Come ma? Fa bene Dania, non fa bene nessuno. Perché? Proprio bene. Perché? Fa bene, non fa bene nessuno. Che prosperano di vita selvaggia e le abitudini delle comunità sono regolate. Ma manco Fabietto? Oggi non ho telefonato a nessuno. Ancora altun'è da. Domani, domani telefono. Sarò terchetto, beh, non ti voglio nessuno. Vengono a cagare, a fissare, non mi lasciano fuori. Mangano, piattrano tutto qua. Cento mila bicchieri c'erano, i piatti, i taravati. La fa te, eh. Sei tu che gli cagli il canto a chiamarlo? Che il canto lo chiamano a proprio il telefono? Come papà la mandano a fai il cuore. La pazzatura la mandano a fai. Gli ha rotto, non sai perché l'ha portata la copra, la moto? Non sai perché l'ha portata? Perché gli ha rotto la funcetta, hai capito? La porta che l'ha riportata, hai capito? Prima la gli ha rotto. Hai capito? Ha visto che la mandano a fai il cuore, che ha fatto il rispetto, che ha affettato la moto. Ma papà ha detto, no, se non mi ha aggiunto la moto, io le faccio. Io rompo la macchina, quando la via, gliela rompio. Hai capito? A Mirko. E non gli ha aggiunto la moto, sì? Gliela ridata perché l'ha spazzata, la voleva perché la fede ha spazzata, capito? Da millenni le giungle forniscono la città, acqua e sostanze nutritive, non gli esseri viventi hanno bisogno. Ecco, è buono solo a fare il rispetto, ogni volta che pia la moto, c'ha sempre da buttarla, papà. La prenderà, l'ha fatta a posta, per farti dare i torchi, hai capito? Hai capito perché? Lo graffio della mignotta, eh? Fatti più di puntata, Fabio. Hai capito? Fatti più di puntata, eh? Hai capito? Fatti più di puntata. Fatti più di puntata. Sì, sono tutti più di puntata ancora. Sì, sono tutti più di puntata. C'è il blocco dell'import, i petrolio in cassa russi. La Rio-Bretagna lo segue, anche la web prepara nuove sanzioni contro Putin. Moschia minaccia di fermare le forniture del Nord Stream 1. Nuovi bombardamenti russi fermano l'evacuazione dei civili assoli. Distrutto ospedale di Izzy. Ehi, ehi, ehi. Ma anche a freddo è più che pulito. È pod che viene fuori dalla fortuna di...